Un saluto a tutti, ecco un altro video tutorial che questa volta andrà a riguardare sempre il riferimento alle gradatori di istituto di terza fascia personale ATA del criegno 2021-2023 l'inserimento dei titoli di servizio, qualora il docente dovesse inserire un titolo di servizio specifico oppure altro titolo di servizio in riferimento a servizi prestati presso la pubblica amministrazione o presso gli enti locali. Andiamo a vedere come si compila il servizio. Siamo nella scelta delle operazioni da fare, inserimento, abbiamo detto assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, per esempio, facendo avanti entriamo nella compilazione alla domanda. Titoli di servizio. Questa sezione è abilitata per tutti i profili per cui si chiede o inserimento o conferma o aggiornamento. Dunque è riferito a cascata su tutti i profili. Andiamo a andare a vedere come si compila questa sezione, facciamo accedi ed entriamo nei servizi inseriti dell'aspirante. Qualora ci fossero servizi nelle scuole statali, troverete già precompilato il servizio da importare nella domanda. Se invece il servizio non lo trovate, allora lo dovete aggiungere come aggiungi titolo di servizio. Ecco, per esempio facciamo un servizio prestato nell'anno scolastico in corso 2020-2021 e presso, per esempio, il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria chiede poi chiaramente anche la provincia, dunque mettiamo la provincia di Reggio Calabria eccola qua, andiamo a inserire e poi andiamo a inserire anche il comune che sarà sempre il comune di Reggio Calabria. Eccolo, e lo andiamo a inserire. Ecco, inseriti, provincia, comune, andiamo l'indirizzo, per esempio, via Ossidonea e poi il profilo per cui, vedete qui il profilo del servizio svolto, ci sono tutti i profili possibili, assistente amministrativo, se si è fatto nel profilo di assistente amministrativo oppure tecnico, cuoco, collaboratore scolastico, infermiere, collaboratore scolastico tecnico per le aziende agrarie, guarda, robbiere oppure altro profilo se, per esempio, viene fatto in altro ambiente che non sia la scuola, per esempio, o in riferimento a un ente locale, a un comune, alla provincia o alla regione. E in questo caso facciamo finta che sia come assistente amministrativo. Tipologia del contratto di lavoro non di ruolo e se fosse stato di ruolo lo si metteva, si selezionava di ruolo, nel caso specifico non di ruolo. Tipologia del servizio, ecco qui le varie tipologie, questo è prestato in una scuola statale, altrimenti se è prestato come altro servizio in amministrazione statale, ente locale, oppure sempre se è prestato come servizio nelle scuole paritarie sappiamo che vale la metà del punteggio, ma poteva essere anche prestato come servizio per progetti delle regioni, in questo caso sono scuole statali. Si inserisce, si dà il periodo del servizio, per esempio dal settembre 2020, dal 18 settembre 2020 fino a marzo 2021. questo è il servizio, qua vi dà anche il conteggio in giorni che ve lo calcola automaticamente, poi se ci sono periodi di interruzione si devono segnalare, se ci sono periodi di essenza al servizio senza restituzione si devono segnalare facendo raggiungi, poi si inserisce il servizio e il servizio viene diciamo salvato con successo. Per indicare un nuovo servizio, un servizio diverso da quello già dichiarato, si fa di nuovo la procedura, aggiungi titolo di servizio e dunque noterete che questo numero che trovate qui, che in questo caso è uno perché abbiamo inserito un solo servizio, diventerà due, tre e così via secondo quanti servizi si vanno ad aggiungere. Ringraziamo tutti i nostri telespettatori, seguiteci ancora nei nostri canali social Facebook e YouTube, un saluto a tutti quanti.